Camugna Rally 2021, prima assistenza dopo la prima prova con i nostri equipaggi ABS Sport. Ecco il nostro direttore sportivo Ivano Tagliabue che è già andato all'attacco. I nostri amici Giorgio, adesso andiamo a salutare anche i nostri amici Valerio e Manola, pronti per la partenza della seconda prova speciale, la nostra naviga Manola, ciao Bambola, il nostro grandioso, ecco qua il nostro DS in pensiero che vuole andare a fare la sua bellissima seconda prova. Bravi ragazzi, eccoci qua il primo parco assistenza sempre del Camugna Rally 2021, il nostro DS con con l'amico Dario Capiaghi, Giorgio, il nostro mitico Teo, ciao Teo, i nostri meccanici al lavoro. Equipaggio Rossini Ciceri, pronti alla partenza per la terza prova speciale, ciao Valerio, di qualcosa, ciao ciao Manola, pronti ad attaccare la classe A6, dove attacchiamo, dove attacchiamo? Diretta, squideribes e sport, assistenza Team Sardarini, ecco il rombo dal 106 a 6. assistenza Team Sardarini, assistenza Team Sardarini, assistenza Team Sardarini, per customer? Grazie per la chance attaccare la classe A6, dove attacchiamo, capitalist, e иваемкий stranet Grazie a tutti.